si avvicina il calciomercato e tante squadre hanno già cominciato a lavorare in ambito mercato cercando di scovare quei talenti quegli incredibili talenti che possono rivelarsi delle delle gemme preziose per il futuro fcm sport ha avviato un nuovo progetto che si chiama profili di calciomercato in qualche modo cerca di presentarvi i migliori talenti del futuro i migliori talenti che possono essere ottimi giocatori per il futuro e oggi vi presentiamo un giocatore che secondo noi può rappresentare davvero il nuovo da glass costa un giocatore che potrebbe essere adocchiato da parecchie squadre perché no ci potrebbe fare un pensiero anche la juventus perché oggi parliamo di un giocatore che su profili calciomercato può essere veramente una vera e propria chicca prima però di partire vi ricordo di supportare questo progetto quindi mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non avete fatto e attivate la campanella e un oltre un semplice like aiuta questo nuovo progetto profili calciomercato a appunto da andare avanti il nome in questione quello di oggi appunto è quello di gabriel veron un talento vero e proprio che ora può rappresentare una vera e propria gemma per il futuro stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni classe 2002 gabriel veron infatti nasce il 3 settembre del 2002 un brasiliano che gioca al palmeiras e già questo vi deve far capire che tipo di giocatore sì perché parliamo di un giocatore molto piccoletto è 1 e 74 molto piccolino brevilineo dotato di una buona struttura fisica ma che sicuramente si può rafforzare nel corso degli anni grandi agilità e grandi abilità la sua migliore caratteristica chiaramente la sua skill migliore è sicuramente il dribbling secco una velocità una rapidità che lascia molto spesso gli avversari senza parole un'abilità che come dico sempre in italia nella juventus dico molto spesso ma in generale in italia mancano sempre questi giocatori capaci di saltare l'uomo con facilità guarda caso questi giocatori vengono sempre acquistati dalle grosse squadre della premier league che sanno perfettamente che nel calcio moderno il dribbling secco e la velocità sono dei aspetti fondamentali per creare superiorità numerica grande agilità e soprattutto grande esplosività nelle gambe per un ragazzo che ha una veramente un'accelerazione pazzesca ed è per questo che soprattutto in brasile viene denominato come un futuro nuovo da glas costa giocatore da glas costa che per esempio i tempi della juventus era veramente eccezionale unico limite oltre a quello caratteriale che secondo me non era la testa non aveva esattamente la testa di un professionista a mille per mille a mille per mille però effettivamente il vero limite del ragazzo era proprio il fisico non esattamente fortunatissimo da questo punto di vista una velocità di base incredibile senza palla ed è chiaramente un giocatore questo gabriel veron che potrebbe veramente essere un ottimo prospetto per le squadre italiane ottimo dream nello spazio ma anche ottimo dream anche a campo aperto un giocatore molto forte quanto ha spazio lui riesce a superare qualsiasi tipo di avversario quando ha spazio risulta davvero devastante uno di quei calciatori perfetti per quelle squadre che giocano difesa e contropiede cioè aspetti 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 poi parti in contropiede quando parte in contropiede e ai giocatori come gabriel veron secondo me sei veramente a cavallo perché perché molto spesso magari parliamo della juventus di una juventus che gioca con allegri con una difesa che si chiude con una juventus che aspetta l'avversario e poi aspetta l'errore dell'avversario per ripartire in contropiede ecco se giochi con giocatori come morata e il contropiede viene di cioè non viene un gran contropiede se giochi con giocatori come offensivi ma che chiaramente non sono il massimo dal punto di vista dello sprint come per esempio ken si puoi giocare di contropiede ma non avrai mai grande efficacia un giocatore come gabriel veron se giochi di contropiede sarebbe veramente perfetto un tiro molto molto importante anche dalla lunga distanza è importante nel calcio anche quando si parla di primo controllo cioè si parla molto spesso di tecnica ma si parla poco del primo controllo lui nel primo controllo nel primo controllo di palla è geniale cioè uno di quei giocatori che lo vedi fin da subito al primo tocco del pallone che è un giocatore sopraffino è uno stile frizzantino molto tecnico molto rapido è molto dinamico continui strappi continui doppi passi continui dribbling è un giocatore secondo me che per il campionato italiano sarebbe perfetto sarebbe il tipico spacca partite spacca partite che era un termine utilizzato molto spesso guarda caso per il brasiliano ex juve douglas costa lui solitamente gioca come alla sinistra a piede invertito ma attenzione perché può tranquillamente giocare anche come alla destra con il piede destro pronto a mettere in mezzo palloni utili per gli attaccanti può quindi essere utilizzato sia a destra che a sinistra sia in un 4 e 3 che in un 4 2 3 1 quindi fondamentalmente è un tipo di ruolo questo che è adatto anche per la nuova juventus di max allegri come detto è piccolino un classe 2002 19 anni quindi molto piccolo non soltanto età ma anche di statura perché abbiamo parlato stiamo parlando di un ragazzo di un metro e 76 quindi molto piccoletto e ripeto come caratteristiche fisiche anche ricorda proprio il bond aglas costa è un po acerbo chiaramente ancora presto per definirlo un grande campione un grande giocatore perché è chiaro che in profili calciomercato vi presentiamo dei nomi che possono rappresentare per il futuro delle ottime promesse però sappiamo che la juventus in questo è molto brava cioè molto brava a prendere dei giocatori che ancora non sono esplosi magari metterli o in prima squadra da riserva oppure eventualmente nell'under 23 e farli crescere a poco a poco magari metterli in prima squadra e mandarli in prestito ad oggi ed è uno di quelli che secondo me come diceva il bondo e gregori il ragazzo si farà cioè alle abilità e alle caratteristiche giuste per poter sfondare nel mondo del calcio valutazione ancora abbordabile perché la sua valutazione al momento è di 15 milioni di euro quindi una valutazione che ancora si può fare come detto ricorda da glas costa qualità importanti che si potrebbero adattare anche in una grande squadra magari potrebbe essere il caso dell'avventus di prenderlo visto la giovanità mandarlo in prestito per un anno e poi riprenderlo una volta una volta visto sbocciato magari in una squadra di seri dac che gli è però dare continuità perché uno dei ragazzi che ha tanta qualità però poi il salto nel calcio europeo è sempre un punto interrogativo quindi a quel punto bisognerà capire se il buon gabriel veron avrà rispettato le aspettative ha ancora un contratto lungo perché chiaramente è stato messo sotto contratto due anni fa un contratto fino al 2026 quindi strapparlo al palmeiras non sarà facilissimo però sono convinto che questo tipo di giocatore può essere preso da una squadra italiana e può essere messo in condizione di esplodere perché è un ragazzo molto molto forte parliamo di uno che già gioca nella nazionale brasiliana under 20 lì dove ci sono tanti giocatori forti ma lui è uno di quelli che spicca di più perché è veramente molto molto forte molto in gamba ed è uno di quei profili secondo me che la juventus ma tante altre squadre di serie a dovrebbero radocchiare perché come detto in italia mancano molto spesso i driblomani giocatori che creano superiorità numerica grazie a un dribbling secco che in italia è una ormai una peculiarità è una cosa che non si vede più per questo credo che il buon gabriel veron può rappresentare una grande opportunità per tutte le squadre europee per tutte le squadre soprattutto italiane io spero con tutto il cuore che questo ragazzo possa arrivare in italia e possa farlo già quest'estate perché parliamo di un giovanissimo perché un 2002 stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni però comunque nulla toglie che se uno è bravo può e deve giocare fin da subito ditemi la vostra qui sotto ai commenti intanto se l'avete mai visto giocare se vi piace se apprezzate queste caratteristiche se secondo voi può diventare alla lungo un buon giocatore addirittura per ora viene paragonato al buon Douglas Costa ecco se può diventare un grande giocatore e se è adatto al calcio italiano ditemi la vostra soprattutto se avete qualche nome interessante per questa nuova rubrica profili calcio mercato scrivetelo sulla qua sotto che ne approfitteremo per parlarne per analizzare come vedete e c'è proprio tutta una playlist dove troverete tutti i migliori nomi nuovi del calcio mercato profili calcio mercato e la nuova rubrica che vi presenta questi questi giovani talenti che possono rappresentare delle grossissime occasioni per il mercato sia per la juventus ma per tutte le altre squadre quindi se questo forma vi piace fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciate un like